Hiroshima 6 agosto. Viene sganciata la prima bomba atomica sulla città con circa 200.000 morti. La seconda è del 9 agosto a Nagasaki con circa 75.000 morti. Il Giappone è costretto alla resa. Termina la guerra. L'imperatore non è più una divinità. Un'epoca era finita e un sistema di valori era crollato. A fine settembre Azuma torna a Yamagata. Riprende gli studi al liceo classico Higashi Kouko. Lui concluderà nell'aprile del 1947. Finita la guerra non sapevo più chi ero né cosa fare. Il Giappone di allora era miseria, desolazione, confusione, enorme tristezza. Ne siamo usciti con la guerra fredda. Da nemici divenimmo alleati. fedeli alleati che dal sistema americano assimilavano tutto, dall'industria all'educazione nazionale. Più che un essere vivente ero un cadavere. Ero un corpo privo di anima, senza valori e riferimenti. I miei ideali erano distrutti. Solo lo scorrere del sangue nelle vene mi differenziava da un cadavere vero e proprio. La crisi non colpì naturalmente solo me, ma un po' tutti. Alcuni trovarono conforto nella religione. Qualcuno si fece buddista, abbandonando il tradizionale scintoismo. Altri divennero cattolici. Io invece scelsi l'arte per dare un nuovo senso alla mia vita. Per superare quella tragedia senza nulla dimenticare. Nell'arte, pensai, potrò ritrovare me stesso. La serenità è una ragione di vita, coniugando la ricerca del nuovo con il passato, con la storia della mia famiglia, senza recidere legami e radici. La ricerca estetica è la bellezza. La ricerca della perfezione avrebbe potuto sostituire le antiche certezze, crollate di fronte alla realtà, fornendo una ragione al grande quesito. Cosa significa vivere? Cosa significa vivere?